Musica Vediamo subito delle immagini particolari che ci portano in località Santa Maria ecco vedete in località Santa Maria di Casal Maggiore dove c'è stata una tracimazione come si può capire e vedere da queste immagini c'è stato quindi un rischio concreto di rottura degli argini poi per fortuna la cosa è rientrata infatti anche a Casal Maggiore l'ondata di piena che ha raggiunto e ha superato i 7 metri sul livello di guardia sta ormai rientrando gli interventi si sono concentrati sull'utilizzo di sacchetti di sabbia queste immagini sono state registrate da Claudio Calestani del Consorzio Forestale Padano che ringraziamo tanti i danni dicevamo o comunque le situazioni di emergenza che sono state tenute sotto controllo nelle ultime ore e allora a questo punto siamo pronti per collegarci primo collegamento con Giovanni Rossi sentiamo cosa ci racconta Sì buongiorno la zona come potete vedere alle mie spalle è ancora transennata siamo al ponte che collega Cremona con Castelvetro il fiume è a pochi metri da qui ancora sul posto agli uomini della protezione civile che stanno supervisionando la situazione situazione che però sarebbe in miglioramento il picco massimo è stato raggiunto ieri alle 18 4 metri e 35 il livello massimo del fiume che è stato raggiunto e poi da lì inizialmente ha iniziato ad abbassarsi di poco fino ad arrivare adesso a una situazione che è attorno ai 3 metri e 90 sopra lo zero idrometrico per cui circa 40 centimetri più basso rispetto al pomeriggio di ieri la pina era prevista il massimo per le ore 22 invece sono state un po' riviste le stime di AIPO e di protezione civile che inizialmente dicevano che il fiume si sarebbe innalzato fino a oltre 5 metri poi le stime sono state riviste al ribasso 4 metri e 70 e invece fortunatamente il livello si è fermato ai 4 metri e 35 bel tempo finalmente confermate le previsioni dovrebbe rimanere così almeno fino al fine settimana tra sole e nebbia comunque non dovrebbero più esserci precipitazioni in ogni caso vedete alle mie spalle è davvero imponente la furia del grande fiume che continua a scorrere la piena però appunto sarebbe già transitata il peggio passato grazie grazie a Giovanni Rossi tra poco avremo modo e saremo in grado anche di proporvi un'intervista con un esponente della protezione civile intanto per sapere un po' quella che è la situazione nei campi abbiamo un esponente della col diretti abbiamo Claudio Magni grazie per essere con noi tra l'altro lei è segretario di zona di Soresina che però in realtà è una zona che insomma tutto sommato non ha avuto grandi problemi l'abbiamo chiamata perché in realtà lei è originario di Motta Baluffi quindi del Casalasco anche campi allagati allora ho praticamente una piccola azienda in Golena di Motta Baluffi e ho anche i genitori che abitano lì quindi sono stati evacuati? sì sin dalla mattinata di domenica siamo stati allertati dal comune e ovviamente il quale come tutti i comuni che sono nell'asta del fiume nell'area golenale da Cremona a Casal Maggiore per ordini della prefettura di sgomberare e evacuare le aree golenali e così abbiamo fatto così anche la macchina di col diretti si è mossa in questo modo facendo scattare un meccanismo di sostegno aiuto da parte dei nostri soci ai confronti di quelle che erano le imprese, le aziende agricole che erano come attività in queste aree golenali utilizzando mezzi e personali per poter aiutare queste persone a sgomberare sia le attività sia le abitazioni poi ovviamente anche i miei colleghi che sono sulla zona di Cremona sulla zona di Casal Maggiore hanno continuamente tenuto un rapporto di controllo sul posto e anche attraverso le persone che ovviamente avevano le attività in queste aree e quindi abbiamo monitorato in questi due giorni praticamente lo svolgersi di questa problematica appunto è culminata con la nottata con l'afflusso della piena massima e quindi oggi già vediamo anche dalle notizie esatto abbiamo già il livello che si abbassa intanto vediamo queste splendide immagini registrate nei giorni scorsi quando l'acqua era ancora un po' più bassa grazie a un drone di cui vi abbiamo già parlato nell'ambito del progetto Pro Cremona ma intanto Cristina ma intanto Giovanni Rossi al microfono ha sentito Antonino Lamalfa della protezione civile Eridanus e vediamo che cosa ci ha raccontato in merito proprio alla piena di queste ore dunque la situazione è miglioramento? la situazione è qui sull'asta del Po è miglioramento qui sul passaggio qua di Cremona mentre invece più giù ci sono altri problemi perché l'onda di piena sta arrivando sempre più giù e abbiamo dei problemi sulla chiavica del riglio in quanto sta raccogliendo tutte le acque a nord e lì è 5 metri livello però se qui si abbassa e verranno aperte le paratie così si riesce a far defluire l'acqua qui nel Po in questo momento ci sono 8 trattori in batteria che stanno buttando fuori l'acqua dal suo bacino verso il Po e in più la chiavica del riglio che sta continuando a smaltire comunque la situazione è sotto controllo la situazione è tutta sotto controllo so che ci sono dei problemi nei paesi qua vicino a noi il Bosco Esparmigiano, Sommo Comporto so che hanno ordinato delle evacuazioni e anche sulla sponda emiliana però è tutto sotto controllo il miglioramento la situazione è in miglioramento allora ecco Magni ma lei insomma abita lì da tempo visto che ci abitano i genitori quindi avrà ricordi anche di ben altre piene esattamente questa piene è così come è stata stimata dall'organismo dell'Aipo quindi dalla protezione civile uguale al 94 in effetti si è svolta e ha avuto le stesse caratteristiche del 94 purtroppo nel 94 è anche arrivata perché i livelli degli argini erano un attimino più bassi rispetto a questi ai 20 anni sono stati alzati gli argini sì praticamente dopo la piene del 94 il magistrato del Po quindi l'Aipo l'ente di Bacino ha rialzato questi argini e grazie a Dio questo è quello che ci ha salvato dalla situazione di un'esondazione avete visto dalle immagini anche a Goiolo c'è stato questo leggero sversamento ma è stato contenuto quindi insomma i lavori per migliorare gli argini si fanno esatto esatto ha funzionato credo che abbia funzionato tutto anche il sistema di Call di Rete appunto ritorno sulla questione dell'organizzazione della nostra associazione che è stata di grandissimo supporto alle nostre aziende e che quindi ci ha portato grazie anche a questa situazione di argini risistemati a portar via questa piene senza nessun danno ecco prima poco fa parlavamo fuori onda delle varie piene perché tutto sommato questa piene è stata morbida non l'hanno definita morbida quella del 94 era andata oltre gli argini pur essendo una piene meno importante di questa quella del 2000 invece è stata quella preoccupante differenze ed analogie la piene del 2000 purtroppo è stata molto violenta e molto veloce nel suo passaggio tant'è vero che abbiamo avuto anche noi nel nostro comune sto parlando di Motta Baluffi un'argine comprensoriale che è scoppiato sotto ma credo un po', anzi quello che da qualche è la storicità di quell'evento un po' tutti gli argini comprensoriari non hanno retto a questo tipo di piena quella del 94 invece è stata molto più lenta simile a questa e ovviamente l'alluvione è arrivata perché poi ha tracimato come avete visto anche in quelle immagini ma tracimando ha limato via una parte dell'argine quindi nei vari comuni nei vari comprensori è successo poi che si sono rotti però poi successivamente è stata rifatta l'arginatura ed è anche stata rialzata quindi un po' di opere di rafforzamento sono state costruite è chiaro che però la gestione delle acque e monte sono una cosa fondamentale quindi la gestione della piena deve anche essere in collaborazione su tutta l'asta del fiume partendo dai laghi e scendendo il mare esatto, quindi tutto il bacino quello che si definisce bacino idrogeologico esattamente perché c'è questo problema proprio che quando i laghi si alzano troppo spesso vengono aperte queste chiuse e chi è a valle viene avvertito soltanto a cose fatte o sbaglio esatto nel 2000 probabilmente le cose sono andate dico probabilmente perché ovviamente io ho in mano i dati tecnici delle autorità però sono andate in questo modo cioè è successo che purtroppo in poche ore si è legata tutta la golena quindi sia quella diciamo che non ha protezione sia quella ovviamente qui ci sono insediamenti che ha protezione comunque sul fatto delle arginature vorrei dire anche questo cioè le argini sono opere idrauliche fondamentali vanno mantenute in ordine pulite ecco in provincia di Cremona questo accade? in provincia di Cremona accade però come sempre c'è sempre qualcosa da fare in più c'è sempre qualcosa da migliorare ci sono tratti mi riferisco soprattutto all'arginatura di prima golena quella ridosso proprio del fiume che è fondamentale anch'essa nelle prime fasi di piena perché più si tiene l'acqua lontano diciamo dagli argini e dalle abitazioni meglio è per cui la raccomandazione che io do nel senso che mi sento di dire è quella di mantenere puliti gli argini sempre tutto l'anno perché evitiamo che si formino buche che potrebbero creare appunto falle e quindi far esplodere far rompere questi argini quindi mantenere tutto in ordine è la cosa fondamentale ok ancora un flash lei diceva prima che i suoi genitori sono stati evacuati da Motta Balufi ma dove sono andati? allora in questo caso io ho la mamma che abita lì e adesso è con me per cui l'ho aspettata a casa mia e ho la fortuna di abitare avete risolto in via breve esatto abbiamo risolto in questo mondo per entrare invece poi nel merito e poi chiudiamo allora danni danni all'agricoltura sappiamo sono mesi di passione troppe piogge durante l'estate adesso i campi completamente allagati forse non si possono ormai quello che si doveva fare si è fatto? guardi le semine autunnali che sono quelle soprattutto di grano tenero orzo purtroppo non si potrà andare avanti molto specialmente nelle zone golenali non si potrà più praticamente ripetere le semine sappiamo che ci sono dei campi che sono andati sotto acqua e quindi questi purtroppo sono danni che sarà impossibile ripristinare ovviamente se il tempo potrebbe diciamo così darci un po' di tregua magari qualche spiraio per poter seminare c'è ancora non certamente nelle zone golenali nelle zone golenali dove c'è l'acqua del fiume sarà difficile comunque è stato chiesto lo stato di emergenza quindi ci saranno gli estremi per gli agricoltori per chiedere il risarcimento danni come col diretti ci prodigheremo come sempre a cercare di ristorare i danni sulle coltivazioni perché sappiamo che purtroppo diverse coltivazioni come ho detto prima di cereali autunno vernini quindi frumento grano orzo sono andati sott'acqua e sono persi per sempre grazie Claudio Magni col diretti io la invito a restare qui perché adesso arriva una sua collega perché oggi abbiamo anche la volontà di scoprire un altro aspetto della col diretti benvenuta grazie allora salutiamo Estrina Mariotti che è presidente di Terra Nostra di Cremona oltre che essere presidente anche degli apicoltori degli apicoltori dell'associazione produttori apistici cremonesi della provincia di Cremona ecco perfetto la piena ha creato danni alle api? per ora a mia notizia no perché ci sono 4-5 associati che hanno gli apiari in posizioni a rischio però essendoci stato qualche giorno di preavviso hanno potuto metterli in sicurezza non è stata una improvvisazione però in realtà la primavera fredda l'estate piovosa e poi adesso va bene ancora quest'ulteriore pioggia ha fatto crollare leggevo la produzione di miele che pare in tutta Italia sia calato del 40-60% lei conferma? sì anzi aumenterei anche la percentuale nel senso che nel territorio cremonese abbiamo raggiunto il 70% di produzione in meno quindi abbiamo prodotto il 30% di miele disastro perché le api erano pronte i fiori c'erano però le continue piogge hanno dilavato i fiori di conseguenza l'ape che andava a succhiare il lettare sul fiore andando non trovava più nulla perché era di lavare quindi un drastico caro nella produzione e poi vabbè c'è anche il problema però che le api sono sempre sotto tiro tanti pericoli che vanno a incidere sulla loro sopravvivenza non ultimi i pesticidi usati in agricoltura certamente è stata però un'annata al 2014 abbastanza felice sotto questo punto di vista nel senso che non ci sono stati in provincia di Cremona avvelenamenti importanti qualche caso però non è stato un avvelenamento importante diciamo che abbiamo vissuto un 2014 noi e le api in un territorio abbastanza pulito bisogna usare i pesticidi in maniera più accurata bisogna vedere gli agricoltori sicuramente pesticidi in maniera oculata in maniera intelligente perché ad esempio fare il trattamento sulla frutta in fiore prima si sfalcia sotto alcuni accorgimenti che sicuramente possono essere messi in campo in realtà abbiamo invitato Esterina Mariotti per parlare appunto dall'alto della sua esperienza di Terra Nostra di una delle tante iniziative portate avanti dalla Coldiretti che in questo caso coinvolge i più piccoli la Coldiretti ancora una volta dice stop ai cibi spazzatura più frutta a scuola qui vediamo subito delle foto con delle belle scolaresche durante visite ai vostri banchetti credo no? che cosa vediamo? Sì stiamo vedendo delle esperienze dei bambini a cui si rivolge Coldiretti con Agribenessere con il nostro progetto Agribenessere a scuola di salute perché la salute si comincia ad insegnare da piccoli non con le parole ma non solo con le parole ma anche con l'esempio per cui si fa vedere si fanno i laboratori in questo momento stanno scorrendo delle immagini di laboratori di fattorie didattiche di agrinido di feste in cascina dove i bambini hanno modo di vedere di toccare con mano quello che è la natura poi Agribenessere si spinge anche inoltre che è il progetto a scuola di salute in cui si insegna a consumare il cibo in cui si insegna la stagionalità i ragazzi di oggi i bambini di oggi sono tecnologici sono il più possibile vicini al telefono ma non sanno quando è pronto il pomodoro da mangiare per cui questo è molto vero ma i bambini di oggi mangiano volentieri frutta e verdura perché un tempo c'era proprio lo spauracchio dello spinaccio o della verdura a tavola adesso anche per esperienza personale ho l'impressione che un po' sia stato fatto o no? i bambini sono sempre bambini nel senso che tecnologici o no lo spauracchio della verdura c'è sempre frutta e verdura c'è sempre da un canto ci sono gli enti diciamo la scuola che parlano della piramide alimentare parlano delle cinque porzioni giornaliere di frutta o di verdura però la tecnologia secondo me ci si mette in queste cinque porzioni cioè invece di mangiare la mela bevo il succo d'arancia non è la stessa cosa eh no direi proprio di no anche perché chissà cosa c'è dentro il succo d'arancia non è la stessa cosa quantomeno una spremuta quantomeno una spremuta ecco noi ci siamo per ricordare questa differenza ricordiamoci che le patatine fritte non sono considerate le patatine fritte sono considerate un premio in più e non è una verdura ma tra l'altro è vero che ci sono sempre più spesso a scuola queste lezioni di educazione alimentare ma sì sicuramente ci sono ma nei bambini come anche nelle persone l'esempio il vedere il toccare con mani rimane esperienza poi anche di vita diciamo l'educazione e l'esempio dei genitori penso che sia quello fondamentale esatto non sono i bambini che vanno a fare la spesa no non sono i bambini che vanno a fare la spesa non è meglio forse educare i genitori secondo me va giocata su due ruoli cioè bisogna far vivere il più possibile esperienze pratiche ai bambini e anche i genitori infatti le nostre fattorie didattiche e le nostre aziende agricole sono anche attrezzate orientate a fare percorsi di questo tipo per cui tramite la scuola il progetto Agri Benessere fa il discorso di formazione e di esperienza per i bambini poi ci sono le occasioni per le famiglie in ogni fattoria didattica andando sui siti o di col diretti cremona.it oppure sui siti delle fattorie didattiche di ogni fattoria didattica singola ci sono i momenti in cui la famiglia può fare l'esperienza assieme ma c'è anche un contatto magari con le mense scolastiche c'è una collaborazione per sensibilizzarle sì c'è stata una collaborazione c'è una continua attenzione da parte di col diretti e da parte soprattutto di agrimercati quando si vedeva prima le bancarelle tutte gialle è l'associazione di agrimercati che è quella di Campagna Amiche in pratica dove c'è il produttore che vende direttamente al consumatore in alcune piazze della provincia di Cremona qui a Cremona ricordo è il venerdì mattina il mercatino che c'è a Foroboario ci sono delle occasioni in cui delle aziende soprattutto predisposte per fare degli accordi con le mense però purtroppo c'è un problema in questo che le nostre aziende agricole hanno la produzione stagionale chiaramente il prodotto si produce d'estate d'inverno avremo solo verze porri e non abbiamo insalato non abbiamo altre produzioni per cui il rapporto con la mensa è difficile tenerlo perché la mensa lavora da settembre e non nel periodo estivo in Italia quasi un bambino su quattro è in sovrappeso mentre il 10% è addirittura obeso si tenta di correggere l'alimentazione anche a scuola sono stati fatti anche esperimenti legati alla distribuzione di frutto a scuola attraverso vere e proprie macchine al posto di merendine la possibilità di consumare durante l'intervallo un frutto non sono andati benissimo bisogna lavorarci ancora un po' su grazie per adesso a Isterina Mariotti presidente di Terra Nostra salutiamo anche Claudio Magni sempre di Coldiretti ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti grazie a tutti 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 grazie a tutti